Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove in direzione Firenze si segnalano 5 km di coda per un veicolo in fiamme al km 5 tra Ginestra Fiorentina e Scandicci. Sempre verso Firenze rallentamenti per lavori tra Empoli Ovest ed Empoli Est. In direzione Mare 3 km di coda per lavori tra Empoli e San Miniato e 1 km di coda per un veicolo in fiamme al km 12 tra La Strassigna e Ginestra Fiorentina. In A1 in direzione Bologna acode a tratti per il traffico intenso tra Calenzano e Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma rallentamenti per un veicolo fermo in galleria tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Badia, siamo sul versante Emiliano della direttissima. In A15 2 km di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In A11 verso Firenze rallentamenti per veicolo fermo tra Prato Ovest e Prato Est. Ed è tutto, buon viaggio!